Dopo 34 anni di foto antiquaria, tu ancora riesci a portare qui delle novità, le cose belle ancora di questa foto antiquaria, sia con le attrezzature e sia con le mostre? Sì, effettivamente foto antiquaria, devo essere veramente sincero anche se immodesto, ma ancora è una di queste manifestazioni che legge, la piazza legge, viene tanta gente, vengono tanti espositori e anche ci fanno tanti complimenti. Ancora un successo dunque per foto antiquaria, la fiera organizzata dal fotoclub La Chimera, dedicata al mondo della fotografia. Tanti espositori sotto le logge di Piazza Grande, così come altrettanto numerosi, sono stati gli appassionati di fotografia, arrivati da tutta Italia alla ricerca di occasioni, pezzi di antiquariato e rarità. Ma la fiera quest'anno si è aperta anche al futuro della fotografia. C'è extra color con le stampe su tutte le superfici possibili e immaginabili, c'è Toscana Photo Service che ha portato questo ritorno al passato, invece che il ritorno al futuro con le polaroide che sembra che vadano, le polaroide che fanno le foto immediate. Le polaroide del futuro però. Sì, polaroide del futuro però con un concetto ormai vecchio insomma, che ritorna e sembra che ritorni anche la mania della stampa su pellicola, anche la fotografia su pellicola. Ma gli espositori del futuro ci saranno oppure? Ecco, questo purtroppo è un argomento un pochino delicato perché queste fiere richiedono tanti sacrifici, tanta passione e purtroppo bisogna dire che i giovani non hanno voglia di fare queste cose per cui attualmente non c'è un grande ricambio. Nel corso della mattinata è tornato anche il photoshooting con la modella Jenny Silvestrini, ovviamente sullo sfondo della suggestiva Piazza Grande. All'interno della sede del fotoclub La Chimera infine è stata allestita la mostra fotografica dedicata al fabbricone.